Un saluto a tutti voi e bentrovati all'ultimo appuntamento con il nostro telegiornale, sempre la pagina politica in primo piano perché si susseguono gli incontri tra gli schieramenti del centrodestra e del centrosinistra, posto che il Movimento 5 Stelle ha già individuato i due candidati sindaco sia a Campobasso che a Termoli. Due schieramenti sono ancora alla ricerca della definizione finale della griglia, ma le tensioni animano in queste ore soprattutto il centrodestra. All'ultima riunione il coordinatore regionale della Lega Luigi Mazzuto ha addirittura abbandonato il tavolo per la presenza concomitante di Aida Romagnolo, una tensione che rischia di ripercuotersi anche su Termoli. Sentiamo il quadro però della situazione nel servizio di Tonino Danese. Sono ore frenetiche e decisive per delineare il quadro. Sui candidati a sindaco a Campobasso e a Termoli incontri e tavoli si susseguono e non mancano i distinguo. Nel tavolo di centrodestra, nel capoluogo dove la Lega pare avere diritto di prelazione sul nome di chi dovrà correre per il vertice di Palazzo San Giorgio, le frizioni tra il coordinatore regionale del partito di Salvini Mazzuto e le fuoriuscite Romagnolo e Calenda si fanno sentire. Ieri proprio Mazzuto se ne è andato alla vista della Romagnolo. Sul tavolo resta il nome di Tramontano ma il gradimento non sembra unanime. A risolvere la questione potrebbe essere il presidente Donato Toma che secondo indiscrezioni imporrebbe l'out-out a Mazzuto, ovvero o cambia il candidato o esce dalla giunta regionale. A Termoli è ormai ufficiale che l'alfiere del centrodestra sarà il forzista Francesco Roberti. Il tema comunali è stato al centro del dibattito a Moby Dick con gli interventi di Anna Elsa Tartaglione, coordinatrice regionale di Forza Italia e Francesco Pilone, aspirante candidato. L'assessore Mazzuto è anche venuto al tavolo, ovviamente prima che iniziasse la riunione abbiamo avuto delle cose da dover mettere a punto. Domani si vedrà con il presidente Toma per essere poi tutti insieme domenica a decidere sul da farsi. Sono pronto, io mi sento pronto, poi sarà un tavolo, la democrazia, saranno i partiti. Una cosa che chiedo mi dovranno dire le motivazioni del no perché non vado bene oggi per rappresentare un centrodestra, poi farò le mie valutazioni. Nel centro-sinistra la partita dovrebbe chiudersi entro domani come assicurato dal segretario del PD Facciolla che ha fatto la spola tra Campobasso e Termoli con il vicepresidente della Camera Ettore Rosato. Nella città adriatica sbrocca, vuole ripetere l'esperienza da primo cittadino ma la situazione non è definita. Anche Battista nel capoluogo vuole correre ancora ma il dibattito è aperto e non è un mistero che il PD continua a fare la corte al movimento Io amo Campobasso che potrebbe proporre un suo candidato a Italia in comune con Pino Libertucci che potrebbe correre da solo. Quello che noi abbiamo chiesto nel momento in cui siamo entrati nel dibattito e nel lagone politico, perché ovviamente di questo stiamo parlando, era discontinuità rispetto al passato ma anche attenzione e rivalutazione delle competenze e delle professionalità. Stasera è arrivata l'ultima firma, lo posso dichiarare qui, la firma per noi molto importante. Che è? Possiamo dire. Certo, assolutamente, è la professoressa Rossella Gianfagna. Italia in comune non è un partito della coalizione, non faccio parte organica del centro-sinistra ma in questo momento, francamente, non capisco. È un problema loro. È un problema loro, evidentemente. Tutto definito invece in casa 5 Stelle con le candidature di Roberto Gravina, Campobasso e Nick Di Michele a Termoli. È stata la scelta più naturale condivisa dall'intero gruppo, dai portavoce, insomma, nel segno della continuità. Non c'è stato alcun duello, insomma, alcuna rivalità così come peraltro riportato da alcuni organi di stampa. Insomma, sappiamo che il gossip, soprattutto in queste fasi, fa gola, ma è una cosa che in realtà non ci ha riguardato. Il fatto che il Movimento 5 Stelle abbia, prima di tutti, come del resto sta avvenendo sempre ad ogni tornata elettorale, presentato già il proprio candidato e la propria squadra, è segnale evidente, insomma, che abbiamo le idee chiare. Mancano una ventina di giorni alla scadenza della presentazione delle liste, ma sia nel centro-destra sia nel centro-sinistra potrebbero spuntare sorprese dell'ultima ora. E intanto è previsto per domani pomeriggio alle 15.30 un nuovo confronto con i vertici del centro-destra e questa volta a dettare l'agenda dovrebbe essere proprio la Lega. Secondo quanto si riesce a intuire l'assessore e coordinatore regionale del partito Luigi Mazzuto chiarirà agli alleati che se vogliono avvalersi dell'appoggio della Lega dovranno fare un passo indietro. Se a Termoli si converge su Francesco Roberti, scelto da Forza Italia, non esiste alcun motivo politico, sostengono dalla Lega, per non appoggiare la candidatura di Alberto Tramontano alla carica di sindaco di Campobasso, candidatura scelta proprio al tavolo nazionale da Fratelli d'Italia, Forza Italia e il partito di Salvini. Parliamo adesso della GAM perché la situazione si è complicata e di parecchio dopo la decisione della Vicola Vicentina di rinunciare al macello a Boiano, una decisione che ha creato immediata tensione tra i dipendenti, tra i sindacati e anche tra le istituzioni. Oggi nuovo incontro con il governatore Toma e l'assessore Mazzuto. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Vertenza GAM, sono ore di apprensione e preoccupazione per i lavoratori il cui destino sembra essere appeso ad un filo a Campobasso nella sede della giunta regionale. Il governatore Toma e l'assessore al lavoro Mazzuto hanno incontrato i sindacati per fare il punto della situazione. Il clima è teso. Il governatore in questi giorni ha avuto dei contratti a Roma, al tavolo ministeriale, al tavolo con Amadori ma con la Vicola Vicentina per chiedere di non andare avanti in questa fase e di tornare sui suoi passi e quindi di continuare il progetto di sviluppo nell'area della GAM. Noi speriamo che oggi le notizie che ci darà il Presidente siano positive per cui gli operai possono continuare con la cassa integrazione e possono continuare con la fase di rilancio della Vicola. Cosa servirà all'incontro di oggi? L'incontro di oggi serve per fare il punto della situazione ma soprattutto per avere gli aggiornamenti sulle ultime che sono maturate nel corso di questi giorni. Ci aspettiamo che si trovano percorsi finalizzati alla risoluzione degli elementi ostativi che ci ha posto all'attenzione al Ministero la Vicola Vicentina del gruppo Amadori piuttosto che contiamo a nostro avviso di trovare anche le soluzioni relative al prolungamento della cassa integrazione. Noi ci auguriamo che ci sia una soluzione positiva perché altrimenti la grande sconfitta è quella di decretare il fallimento dell'area di crisi complessa. Non è possibile mandare via le aziende, non è possibile che le aziende che vogliono investire su questo territorio indietreggino. Probabilmente c'è responsabilità di tutti, probabilmente però c'è anche un mancato presidio da parte anche della politica, dell'accordo firmato perché lì c'è un accordo firmato. Per cui noi ci auguriamo che questa soluzione per il bene di quel territorio, per il bene anche dei lavoratori che dovranno continuare a lavorare e di chi poi sostituirà questi lavoratori che sono parecchio in là con gli anni, cerchiamo una soluzione per far ritornare un po' di lavoro in quella zona lì. E intanto al termine dell'incontro di oggi sindacati e parti istituzionali hanno convenuto di proseguire con un tavolo di monitoraggio permanente che tenga aperto il confronto. Per quanto riguarda la presenza della società Vicola Vicentina che ha manifestato l'intenzione di recedere dall'apertura del macello, le parti hanno concordato di prevedere misure per riportare il gruppo Veneto nel territorio e riaprire un dialogo con il gruppo Amadori. Sullo sfondo ci sono anche da salvaguardare gli investimenti nell'ambito dell'area di crisi complessa. Un aspetto che hanno sottolineato anche i sindacati deve essere tenuto in debita considerazione. C'è un altro fronte aperto sul piano dell'emergenza lavoro, è quello dei dipendenti della ex ITR, ma intanto anche la commissione consigliare della regione è impegnata in questa direzione e ha incontrato proprio i delegati dei lavoratori. Sentiamo il servizio di Enzo Di Gaetano. Un breve arco di tempo ci sarà l'incontro con il presidente Iorio e gli altri membri della seconda commissione consigliare della regione chiamata a sbrogliare la matassa del mancato pagamento della mobilità in deroga, lo ha detto Emilio Izzo, nell'assemblea del Comitato Lavoro e Dignità al cui interno ci sono molti degli ex lavoratori di varie aziende della provincia di Isernia che continuano a chiedere il pagamento di quanto dovuto. Siamo rimasti con chiarezza, lo abbiamo chiesto in consiglio e ci è stato detto che saremo chiamati quanto prima, appena hanno capito una serie di cose, per essere chiamati in commissione e per stabilire quanto si è convenuto rispetto alla mobilità e rispetto al progetto lavoro. I soldi ci sono ma sembrerebbe che non possano essere spesi per la mobilità in quanto i fondi provenienti dalla nuova finanziaria nazionale hanno come presupposto la continuità nell'erogazione degli ammortizzatori sociali. E qua bisogna capire il dubbio teorema Toma che in un primo momento dice che aveva trovato i soldi per l'oro, dopo non bastavano, adesso in terza battuta dice che pure se questi soldi adesso sarebbero nelle disponibilità di questi lavoratori, quelli non sono soldi che possono andare a loro perché riguardano altri capitoli di spesa che non appartengono a loro. Ovviamente tutte queste cose, questi tecnicismi che noi non possiamo capire perché non abbiamo le carte in mano, a dire la verità ci interessano poco o niente. Presidente, è arrivato il tempo per risolvere questa questione, la seconda commissione ci dirà le risposte che ci deve dare, ma ovviamente la mobilità credo che deve essere questione di ore perché non si può più aspettare. Dal governo hanno fatto adesso lo stunno di quanto devono dare alle varie regioni? Bene, adesso dovremo capire rispetto a questo stunno cosa sta accadendo perché secondo noi adesso rientriamo tutti, i soldi ci sono per tutti, quindi dovremo capire anche da Toma adesso dove vanno a finire i soldi della mobilità, che anche questi sono al vaglio della commissione, ma ovviamente noi seguiremo passo passo e non cederemo nemmeno di un millimetro. Il Ministero per i beni e le attività culturali rientra nel riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo delle infrastrutture, si avvarrà di risorse per circa un miliardo di euro fino al 2023, i fondi saranno divisi per capitoli di spesa, in Molise sono 69 gli interventi finanziati per quasi 14 milioni e 200 mila euro. Il Molise è una piccola svizzera, lo ha detto il Ministro Elisabetta Trenta, intervenuta ad un incontro in provincia di Sernia su Monte Marrone, un evento che ricorda quella storia militare. Il Ministro tra l'altro ha anche un legame con il Molise, ci dice tutto Sergio Di Vincenzo. In occasione del 75esimo anniversario della rinascita dell'esercito italiano su Monte Marrone, al Museo Internazionale delle Guerre Mondiali di Rocchetta Volturno, è stato organizzato un convegno per parlare di quegli eventi, di quel seme che fu gettato su queste montagne e che poi ha contribuito a far rinascere il nostro paese. All'incontro ha partecipato anche il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta. Durante il suo intervento si è soffermata sull'importante ruolo dell'esercito anche al giorno d'oggi, attualmente infatti impegnato in ben 34 missioni internazionali. L'esercito è sempre stato quello che è ancora oggi, cioè a difesa delle libere istituzioni, a difesa della popolazione e lo fa veramente in ogni momento, in patria e all'estero. Prendendo spunto da quanto accadde su Monte Marrone, il Ministro ha sottolineato la necessità di non dimenticare l'esperienza dolorosa della guerra. È una memoria che devo dire che non conoscevo fino ad oggi, quindi ringrazio anche gli organizzatori proprio per questo evento. L'Italia è rinata piano piano tutta insieme e questo è stato uno dei punti in cui è nata la rinascita, quindi credo che sia un grande merito di questa zona. A margine dell'incontro il Ministro ha parlato anche del suo legame con il Molise. Una piccola Svizzera ha detto, ma tutti dobbiamo fare di più per dare un futuro a questa terra. Tutta la mia famiglia acquisita qui, credo che sia una bellissima regione che deve essere valorizzata, sono dispiaciuta per le cittadine che si spopolano e penso che noi politici dovremmo fare un po' di più perché queste sono delle aree bellissime del paese dove c'è la storia, c'è la cultura, c'è la natura. Mi piace dire che il Molise è una piccola Svizzera e dobbiamo fare molto di più per questa regione. E che si debba fare di più per il Molise ne è convinto anche il direttore scientifico del Museo di Rocchetta Giuseppe Pardini. Il primo passo da fare ha detto è farlo conoscere. Noi dobbiamo esportare il Molise fuori dal Molise perché la conoscenza che si ha in Italia di quello che c'è in Molise, di quello che è successo in Molise è oggettivamente insufficiente per veicolare nella nostra regione anche gli interessi del resto d'Italia, turisti, studiosi, visitatori. Quindi l'obiettivo è connettere il Molise con il resto d'Italia. Noi lo possiamo fare per quanto riguarda la cultura, sta poi all'amministrazione regionale connettere la regione Molise con il resto dell'Italia attraverso strade, ferrovie, collegamenti che siano degni di questo nome. E su questo argomento è intervenuto anche il consigliere regionale Armandino De Giglio secondo il quale il territorio del Molise è attrattivo ma molti imprenditori ha detto scappano dopo aver visto i nostri collegamenti, ben vengano progetti per il futuro della regione ma il Molise ha bisogno prima di tutto di una rete stradale dignitosa, l'aviosuperficie per il consigliere regionale De Giglio è utile ma prima bisogna garantire i servizi essenziali. Parliamo adesso dell'iniziativa promossa dal procuratore di Campobasso Nicola D'Angelo che coinvolge forze dell'ordine, istituzioni, associazioni, il mondo dell'informazione ma anche le attività produttive contro l'uso della droga, un fenomeno in forte crescita soprattutto a Campobasso e provincia. Nell'iniziativa c'è anche la nostra TV che ha realizzato un video che verrà proiettato nelle scuole. Anna Maria Di Matteo ne ha parlato con la dirigente dell'ufficio scolastico regionale Anna Paola Sabatini. Il consumo di sostanze stupefacenti coinvolge sempre i più giovani. A Campobasso il fenomeno sta assumendo tutte le caratteristiche della vera emergenza e dell'allarme sociale. Il procuratore capo Nicola D'Angelo ha rivolto l'appello alle istituzioni, forze dell'ordine, associazioni di categoria, organi di informazione per fare fronte comune per prevenire e combattere lo spaccio e il consumo della droga. Ruolo di rilievo affidato alla scuola in prima linea per sensibilizzare i giovani affinché sia chiaro il messaggio di droga si muore. Purtroppo questa nostra meravigliosa regione fa registrare dati preoccupanti, allarmanti davvero sull'utilizzo degli stupefacenti fin dall'età più basse, anzi a partire da età sempre più basse. E questo ci preoccupa moltissimo, anche perché è accertato dall'attività quotidiana delle forze dell'ordine. Ringrazio a nome di tutti per questa iniziativa la Procura della Repubblica di Campobasso, nella persona del procuratore Nicola D'Angelo e tutti gli altri magistrati, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza. Un ringraziamento speciale va anche alla Procura dei Minori, da sempre in prima linea, quotidianamente. Questa importante sfida che ci coinvolge tutti quanti è alla Procura Generale guidata dal dottor Guido Rispoli. Nuovo incidente oggi sulla Fondovalle del Biferno, tra Larino e Palata. Due auto si sono scontrate, sono rimasti feriti due passeggeri, uno dei quali in gravi condizioni. Una donna liberata dalle lamiere grazie all'intervento dei vigili del fuoco. La donna è stata portata al pronto soccorso del Santimoteo. Le sue condizioni, dicevamo, sono quelle più gravi. Per quanto riguarda l'uomo, invece, sotto shock ma stabile, sempre all'ospedale di Termoli. Torna dunque in primo piano la questione della sicurezza della Fondovalle. Il traffico ha subito naturalmente rallentamenti e quando le auto poi sono state rimosse, la circolazione è tornata regolare. Sono passati dieci anni dalla notte che sconvolse l'Aquila con quel tremendo terremoto e sono state ricordate le 309 vittime, tra le quali anche sei molisani. Dieci anni fa, alle 3.32, un terremoto fortissimo fece tremare la terra all'Aquila e in diversi paesi intorno portando devastazione e morte. In 309 persero la vita uomini, donne, giovani, anziani, studenti. Scene di distruzione e dolore che hanno segnato tutti e hanno tenuto tutti con il fiato sospeso, nella speranza di vedere vite, salve, tirate fuori dalle macerie. Infaticabili i tanti soccorritori arrivati da tutta Italia, tanti molisani, studenti, ma non solo che vivevano e vivono in Abruzzo, tra le vittime sei nostri corregionali. Danilo Ciolli, 25 anni di Carovilli, studente universitario, rimase sepolto nel crollo della palazzina vicino all'ostello della gioventù, altra vittima Vittorio Tagliente, 26 anni di Isernia. All'Aquila si era laureato in ingegneria gestionale e si stava specializzando con lui in camera l'altro Isernino, Michele Javagnilio, coetaneo. Si occupava di bambini autistici, aveva studiato tecniche della riabilitazione psichiatrica, anche loro morti sotto le macerie della casa in cui vivevano vicino quella dello studente. Elvio Romano, 22enne di Boiano, fu trovato senza vita sotto quello che rimaneva della palazzina in Piazza Rossi, anche lui studiava all'Aquila. Luana Paglioni aveva 40 anni, viveva donna ed era sposata con un ingegnere di Capracotta. Morì nel crollo della sua casa, il marito e la figlia di 4 anni si salvarono. Ernesto Sferra, 80 anni, nato a Carovilli, ma residente a Forli del Sannio, era andato a stare con la figlia e il genero all'Aquila. La casa è venuta giù con il sisma e per lui non c'è stato nulla da fare. Un ricordo è loro ancora vivo nelle comunità di origine in tutto il Molise, oggi ancora di più. Alle 3.32 la fiaccolata all'Aquila, alla presenza del Premier Conte. A dieci anni di distanza da quel terremoto, a 16 anni e mezzo circa da quello di San Giuliano di Puglia e a pochi anni da quelli del centro Italia resta attuale, stringente, il monito, la necessità, il dovere di costruire case sicure in un territorio sismico. Si deve fare di più bene, senza speculazioni, per garantire la sicurezza. Il commissario ad acta per la sanità Giustini ha precisato che è stata divulgata una notizia secondo la quale lo scorso martedì si sarebbe intrattenuto a cena, non solo con il consigliere regionale Iorio, ma anche con altre persone, tra le quali il governatore Toma, il capo di gabinetto Mariolga Mogavero, con il consigliere economico del Presidente Tiberio. Nulla di più falso, ha commentato Giustini perché non ha cenato con il Presidente Toma, né con il suo staff, né il giorno precedente, né il giorno seguente, né tantomeno appunto martedì e questa è la dichiarazione che ha diffuso il commissario, che ha diffidato chiunque divulga illazioni che non rispondano a verità. Continua anche domani la raccolta fondi con le uova dell'Ail, oggi in piazza con le donazioni per la ricerca contro i linfomi, le leucemie e il mieloma, le uova di cioccolato vengono distribuite a Campobasso in piazza Municipio, anche all'ospedale Cardarelli, alla fondazione Giovanni Paolo II. Con 12 euro si può diventare sostenitori dell'associazione, ricevendo appunto in cambio un uovo di cioccolato prodotto in bolise, simbolo della Pasqua, i proventi della raccolta, come dicevamo, saranno destinati alla ricerca. Presentato il cartellone di Poietica dopo il successo della scorsa edizione che si è concluso con la Lectio Magistralis di Steve McCarry, se ne entriamo Pasquale Di Bello. Al via la quinta edizione di Poietica, la kermesse artistica ideata e condotta da Valentino Campo in collaborazione con la fondazione Molise Cultura. Il duo Campo Presutti, la presidente della fondazione, ha sfornato un'edizione di altissimo pregio che fa il paio con la precedente, conclusasi con la presenza a Campobasso del fotografo di fama mondiale Steve McCarry, i cui scatti sono in mostra al palazzo della ex Gil fino al prossimo 28 aprile. Tema dell'edizione in partenza il prossimo 8 aprile con la Lectio Magistralis di Salvatore Natoli e la parola che arde e la star della manifestazione è il musicista Wim Mertens che si esibirà il prossimo 13 aprile al Teatro Savoia. Questa prima parte partirà lunedì con Natoli, Salvatore Natoli, filosofo, che si terrà fino al 16 con Zurita. Quindi saranno circa dieci giorni di parola declinata in tutte le sue specificità che sono quelle musicali. Avremo Wim Mertens il concerto, sì. Wim Mertens verrà qui in Molise e sarà l'unica data in Italia. Su Poietica si sono accesi i riflettori nazionali ed internazionali. Ai riconoscimenti della stampa specializzata si è aggiunto il Ministero per i beni e le attività culturali che ha inserito Poietica tra le manifestazioni di interesse nazionale. Soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Regione Toma e dall'assessore al turismo e alla cultura Cotugno. La nostra cultura in un respiro internazionale assume essa stessa un respiro internazionale. Le parole magiche, come più volte ho detto, sono contaminazione, quindi stili diversi che si intersegano e globalizzazione. Morise alla ribalta mondiale, il mondo contenuto nelle nostre manifestazioni. Cultura significa sviluppo perché cultura significa rendere attrattiva la nostra terra. La nostra terra diventa attrattiva con delle offerte culturali e turistiche che sono apprezzate da tutti coloro i quali ci stanno e continuano a visitarci, continuano ad apprezzare le iniziative che l'assessorato al turismo e Molise Cultura stanno portando avanti. Ma il Molise è quello che merita ed è una regione che merita molto. Ci stiamo impegnando veramente tanto su un settore, quello del turismo e della cultura, che può dare molto a questa nostra terra. Sono veramente contento e soddisfatto. Poietica nasce come luogo d'incontro, di dibattito, di discussione tra il locale e il globale. Il cartellone di quest'anno che vede in campo, oltre a Anatolia Mertens, Vandana Shiva, Letizia Battaglia, Pino Bertelli, Jason Eichel, Nedim Gursel e Raul Zurita, vede la sponsorizzazione di un gruppo privato. Come noi siamo attenti alla ecosostenibilità e quindi al miglioramento del mondo nel quale viviamo, siamo anche impegnati a cercare di dare il nostro piccolissimo apporto per migliorare l'essere umano. E non c'è miglioramento dell'essere umano senza cultura. La cultura è uno strumento di pensiero. La cultura ci aiuta a elaborare strategie che vengono poi immediatamente applicate nell'ambito lavorativo. Quindi il nesso tra mondo del lavoro e cultura è stretto. Prima di chiudere vi mostriamo la foto di questo cane che si è smarrito nella zona Vicende a San Massimo a circa un anno e mezzo. È simile a uno spinone facilmente riconoscibile perché la zampa posteriore sinistra è rigida e dunque zoppica. Chiunque ne abbia notizie o l'avesse in consegna può come sempre mettersi in contatto con la nostra redazione. È tutto anche per l'ultima edizione del nostro telegiornale. Vi ringrazio per essere stati con noi. Il prossimo appuntamento con la nostra informazione, il Tg e la rassegna di domani. Grazie e buonanotte. Grazie.